Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questa volta stiamo su Gotham City Impostors Ed è la quarta volta che facciamo l'intro Perché tra bug, lag e chi altro può esserci? Scroti di puzzole Non credo comunque Stiamo su Gotham City Impostors E basta, un FPS Uccideremo i nemici e basta Ho sparato al... A casa Come cazzo si dice? Colui che sta a terra nella strada Strada Ho sparato sulla strada E ho fatto un handshot Probabilmente era un nemico invisibile No, no, stavo a fianco Soltanto con lag mi ha fatto fare le... Maffanculo, le vuoi crepare? Stai mettendo questo a morire, ok Siamo morti Insieme, praticamente Siamo nella stessa squadra Sì, sì, stavolta sì Purtroppo Sarebbe stato più figo ucciderci a vicenda però Ma che cazzo Soprì, ti salvo, ti salvo, ti salvo Se Dio vuole che non laggasse, vaffanculo Ma che sì, sì Se mi facesse anche caricare il gioco, ti prego Perché faccio ci sia senza mirare e poi mirando non le faccio Lo so, però io c'ho 38 di vita Aspetta Io mi ritiro Tiri, tiri, ciao No, io fino alla morte Ogni volta, non mi curo mai Che cazzo mi sparata dietro? Affanculo Affanculo, bastardo con la spada Ah, prego computer e carica sto gioco, mamma mia Non ho dieci minuti durante la partita Cinque minuti passati a caricare Madonna Ti prego Non vi abbandonate No, no, no Oddio, io ho paura Non so da dove vengono i nemici Che cazzo sei tu? C'è un nemico, c'è un nemico, c'è un nemico, c'è un nemico Sì, l'ho visto Ah, pure tu Guarda, ti vedo tutto, tutto fiero di essere verde, l'ho scritto Cazzo, no Cazzo di merda Ma crepa, ma vaffanculo Mi raccomando, più lag Cioè, io a coltello Sì, vabbè Ah, non l'ho ucciso io Sembrava strano Cioè, lo sparo, non mi... Madonna Guarda, guarda, guarda là sotto È grandissimo Aspetta, io mi trovo da un'altra parte della mappa Fottuto, fottuto, stronzo No, mi ha fatto fuori Che cazzo sei tu? Eri un nemico Se ti ho ammazzato ero un nemico Potrebbe essere un ribella dei ribelli Che cazzo è qua? Un nemico Cosa è successo? Ho fatto un'incisione Come ho fatto? Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni Cazzo, vieni Arriva, arriva, arriva No, vaffancapolo, è passato No Crepa No Cosa è successo? Sono le gambe di uno incastrate nel muro Se per questo, sparando a casa mentre stavo in lago Ho fatto un handshot col fucile di GK Sì, non so come cazzo ho fatto Sei un grande Ci stanno tenendo una trappola Non li vedo più io Hai, sai, vieni qua Sono dietro te Ti copro Eccolo Che fa un culo? Ah, sale con due colpi Era scarso Ah, stanno là a cecchinare? No Camperare? No Che cazzo è successo? Sono farsi davanti così Che minchia è successo? I stick di colpo Comunque C'è nessuno Dove state, maledetti No, che malattia Perché mi si blocca il gioco così a caso? No Ok, mi ero bloccato dentro il camion Sì Guarda, guarda Cazzo mi laghi così a merda Non è un gatto che Che conduce energia Riesce ad avere una connessione Ma che cazzo sto dicendo? Non ne ho la più pallida idea Sto cercando di Arrampicarmi sugli spe... No, che cazzo Eh, che cazzo era Oddio, oddio Ah, io sto con 17 vita, roba Prova interessante Dove sta il coso per... Marta, 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 Marta No Dove ci si cura? Eh? Eh, i posti curativi Sì, tu sei chi sei... Che cazzo finisce di parlare a casa, ma te Non preferisco non dire niente Chi è? Io Perché? Perché no Sì, vabbè, un altro me Uno contro 6.000 Ti ho decapitato Non ti è fiero Da notare i cuori con le corna sul mio cecchino Eh, vabbè Scusa, chi è che mi spara? Dall'alto, dall'alto, dall'alto Eccoli Perché l'ho fatto fuori io No, c'è un altro qua che sta cercando di scappare No, scappare come un porco Che scappa Porco Ah, finisci di saltellare? Un daino in calore Che cosa? Ti ho protetto, ma te Io lo sto facendo, fa un culo Ma i daini in calore se quando ti saltano Perché mi è uscita quella cosa là Non ne ho la più pala idea Non mi ricordo Che cazzo sono i daini Un daino Ah sì, un daino Ah sì, sì, sì Ah sì, saltano forse Aspè, a me non mi viene nemmeno in mente l'animale Aspè Finchia, svegli Siamo proprio svegli noi Che cazzo Non l'ho ucciso io sto facendo Ah sì, sei morto Purtroppo Eeeh Un daino è quel Amk0570 Tutti stiamo laggando In modo abnorme Perché l'ho visto uno incastrarsi Nel pavimento Per lo stesso motivo per cui Per cui sono morto io Che cazzo sta succedendo? Sto laggando Donna È ingiocabile Sì, vabbè Vabbè, dai, un po' sto giocando Quel che è possibilitato di fare tale gioco Noi possibilitiamo tale gioco Il link non sta in descrizione Perché semplicemente Che cazzo mi è morto uno davanti? Da dove è venuto questo? Ero uno contro uno Che è apparso uno all'improvviso Ciao Alessandro Che stavo dicendo? Perché sono morto? Dove sei? Dove eri? Davanti a te Ah, non c'è chi è un'immerda Affanculo Eccolo Ti ho preso? Che cazzo era? L'ho preso È morto dopo Dopo almeno Cinque secondi Che l'ho sparato Ah no, tu eri Affanculo E scambio il tuo nome per il mio Non mi far commentare a solo Sembra un coglione Se commenta solo No Ma io non so Non ti sto rispondendo Nel caso tu mi stessi facendo una domanda Perché non Non sto nemmeno capendo Cosa stai dicendo Tu devi dire sì Ogni volta che parlo Ok No, mi sono ucciso a solo Lo stesso vale per te Va bene, ma te? Sì Sei un idiota? Eh, non andiamo oltre il forno Non ti preoccupare Ti ho protetto io Come il tuo angelo custode Sei brutto Una madonna però Ok Come fa a correre Mentre stai in aria? Certe cose non le concepisco Perché Non ho mai visto uno correre in aria Il mio Ah, ok Perché il gioco vai a 5 fps Ad 1 fps Spiegamelo Sì, sono molto per ultimo Con te stesso Vabbè Naturalmente credo che a voi Non la gaffa un culo Sei primo Non me la gaffa Cioè anche a te Però me la gaffa di più Quindi questo era Sto gioco Perché Quello là Guarda che figo Non puoi vederlo Lo vedrai prima o poi Comunque Ho pure una pistola Fantastico Non lo toccherò mai più Sto gioco Quindi questo è il solito gioco Di Mio cugino mi ha fottuto Black Ops 2 E io gioco a sta merda Praticamente Quindi se avete un cugino che vi fotte Black Ops 2 Il link non sta in descrizione Ripeto Perché semplicemente È da Steam Si può anche Non mi ha fottuto niente Non vado a cercare Comunque Stas Team Fate quello che cazzo volete Insomma Comunque basta copiare il nome E ve lo cercate Vabbè È carino Comunque rispetto A Combat Arms A lui piace tanto Vabbè Se il video vi piace Lasciate un mi piace Un commento O qualche cazzo cosa Che volete Lasciate un regalino Poi con te Adesso E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao Ciao